Se fino a pochi giorni fa la campagna vaccinale del Veneto stava correndo, ora si prepara a volare molto in alto. Ad annunciare il cambio di passo importantissimo è il governatore Luca Zaia. Venerdì 7, dalle ore 16, senza calcarsi, senza falaccasini, apriamo ai 50-59 e apriamo, tenetevi duri, fino al 9 giugno, dando disponibilità di 800.000 posti, che è esattamente la corte degli 50-59. Cioè tutti hanno la possibilità di prenotarsi. Zaia lancia un appello anche ai quarantenni affinché si tengano pronti. Non escludo anche qui, ve lo dico subito, siccome si chiude l'agenda vaccinale, si chiude al 9 di marzo, perché è l'ultima data utile con un minimo di certezza dell'arrivo del vaccino, non escludo che anche qui anticiperemo i 40-49. Quindi dico adesso, i 40-49 anni scaldino i motori. L'obiettivo è mantenere il giallo per il Veneto e scollinare maggio, ritenuto un mese fondamentale per la gestione dell'emergenza. Noi dobbiamo scollinare almeno il 20 maggio. Cioè noi quando abbiamo chiuso maggio, indenni, salvi, dopo immagino, spero, ve l'ha detto bene il professor Palù, non c'è nessuno che ha la verità. A parte il fatto che lo dico sempre anch'io. Si ipotizza in virtù del cambio di stagione, arriveranno anche a temperature. Ho visto la prossima settimana, c'è già una media di giorno di oltre 22 gradi. Insomma il virus qualche spallata se la prende. Noi dobbiamo essere furbi di non stare lì a rincorrere noi il virus, perché fino a ieri c'è rincorso lui, adesso che non andiamo noi in cerca del virus. Noi dobbiamo essere furbi di non stare lì a rincorso.